Ed eccoci tornati in studio, sì ecco sono da sola come vi abbiamo anche anticipato prima perché Lorenzo Capestoli Ranchi con Pina Giordano vi aspetta questa sera alle 21.30 per una nuova puntata di Telespiego quindi restate con noi dopo Restart, dopo il TG, dopo Babylon perché non potete assolutamente perdere questa nuova puntata tornando a noi avete forse già intravisto la grafica che c'è alla mia sinistra ma oggi lo potete immaginare anche da come sono vestita oggi a tutti gli effetti Restart si tinge di green quindi apriamo la prima rubrica del giovedì quella dedicata alla transizione ecologica, insomma i temi prettamente green con il nostro ospite, il mio compagno di viaggio buonasera e bentornato, Federico Massimo Ceschin, presidente di Simtour, la società italiana dei professionisti della mobilità dolce e del turismo sostenibile come sta presidente? Tutto molto bene, grazie Aurora, buonasera a tutti Allora, per chi si fosse collegato adesso per la prima volta a Restart 264 con il presidente Ceschin in questa prima rubrica del giovedì noi selezioniamo diverse notizie, alcune belle, altre meno belle per farci capire, per darci il polso della situazione, visto che si parla tanto ormai i temi della transizione ecologica sono all'ordine del giorno Noi oggi non partiamo da una bella notizia perché partiamo dai dati diffusi dal Copernicus Climate Change Service che ci hanno restituito una fotografia un po' drammatica della situazione di questo 2021 che è stato, pensate, il quinto anno più caldo della storia Noi già la settimana scorsa avevamo analizzato, presidente, la situazione climatica nel nostro paese invece questo report ci dà una fotografia della situazione a livello europeo, giusto? Sì, è una situazione del nostro continente molto allarmante in linea peraltro con ciò che accade ovviamente in tutto il pianeta ecco in questo siamo dentro, non ci stanchiamo mai di dire che siamo dentro questo effetto farfalla questo butterfly effect che ci vede tutti nella stessa situazione nella casa comune, direbbe Papa Francesco e quindi sì, è la situazione di un'Europa che non ha molto da celebrarsi per questi risultati nel momento che aumentano le emissioni di gas serra invece di diminuire e questo è il dato più drammatico se vogliamo considerare la lotta al cambiamento climatico perché mentre altri continenti possono immaginare che la deforestazione la perdita di biodiversità legata anche allo sviluppo economico di paesi che fino a ieri erano considerati terzo mondo diciamo siano queste le cause di un aumento del gas serra nel nostro continente questo non può essere vero e quindi significa semplicemente che anche i segnali della pandemia 2020 e del lockdown non sono stati sufficienti a farci capire la gravità della situazione e la necessità non solo di questa ormai parola che molti temono transizione ecologica ma di un cambiamento vero dei nostri modelli di produzione dei nostri modelli di consumo, dei nostri modelli di distribuzione e questo è molto molto grave si aggiunga il fatto che c'è una connessione ormai scientificamente provata che tra questo aumento dei gas serra a questo aumento corrisponde un aumento anche delle temperature con Siracusa arrivata a 48 gradi come soltanto Atene nel 1977 era stata capace di fare un numero maggiore di eventi catastrofici alluvionali, ghiacciate, bombe d'acqua e quant'altro si possa esondazioni abbiamo visto ad esempio in Germania, in Belgio, nei paesi bassi come sono stati davvero queste nazioni hanno vissuto questi momenti drammatici dovuti soprattutto alle inondazioni e poi c'è un'altra questione Presidente gli incendi, gli incendi che hanno davvero distrutto la nostra penisola sia quest'anno ma anche lo scorso anno e c'è un'altra controindicazione, un'altra conseguenza che portano gli incendi non solo distruggere la vegetazione, mettere a rischio la biodiversità perché appunto muoiono diverse specie di animali c'è anche, porta all'aumento crescente dei livelli di anidride carbonica se non sbaglio Assolutamente, questo è uno degli elementi di riflessione che devono essere posti all'immediata attenzione anche del nostro governo visto che il nostro è un paese peraltro che brilla ovviamente al contrario per numero di incendi e per quantità di ettari perduti ogni anno noi abbiamo tre tipologie di perdita una perdita di ambiente naturale e quindi di biodiversità e quindi anche della nostra capacità di godere dell'ambiente naturale dall'altra abbiamo una perdita di capacità dell'ambiente di trasformare appunto l'anidride carbonica in ossigeno e quindi questo è il secondo dato di perdita assolutamente grave il terzo è che la combustione in quanto tale produce nuova anidride carbonica e quindi come dire siamo di fronte a qualcosa che nell'ordine degli investimenti del PNRR dovrebbe trovare una maggiore attenzione dal nostro punto di vista Anche perché rivedere quelle immagini che abbiamo assistito quest'estate sarebbe davvero troppo per il nostro paese Adesso dal sud perché nello specifico gli incendi hanno interessato la regione mediterranea italiana Ci spostiamo a nord, siamo in Liguria Nello specifico nel comune di Porto Venere Perché? Perché è stato lanciato un appello, una petizione che adesso chiedo a Rachela Beian che ha preso il testimone in regia dimostrare una petizione, non si vende il paradiso Eccola qua, perché? Che cosa è successo? All'interno appunto del comune di Porto Venere si trova una piccola ma preziosa gemma naturale di un immenso valore paesaggistico Ecco però, questo luogo che è stato acquistato dal comune di Porto Venere nel 1982 con l'obiettivo di renderlo un luogo di bellezza aperto a tutti rischia di finire nelle mani dei privati perché è stato aperto un bando proprio per mettere in vendita questo angolo di paradiso Ma io mi chiedo, si può fare innanzitutto? Oh sì, certo Però non saremo qui a parlarne ovviamente E l'è fatto costantemente e ci sono anche azioni di sdemanializzazione Io non amo molto questa parola ma insomma diciamo ci sono anche attività fatte dall'amministrazione centrale che tendono a vendere, alienare il demanio pubblico è stata fatta un'operazione importante sui fari per esempio in questi anni dal 2016 ad oggi sono stati alienati moltissimi fari La discussione è molto interessante, molto stimolante porterebbe via molto tempo diciamo che mi presto per una riflessione veloce io contesto l'idea che privato sia male e pubblico sia bene come principio assoluto Beh certo, generalizzare non fa mai bene Quindi diciamo questo lo contesto come principio assoluto Considero che per esempio quei terreni sono stati di proprietà privata fino a pochi decenni fa resi pubblici dall'acquisto di un'amministrazione comunale che ne ha inteso il valore che ha immaginato che quello dovesse essere un valore pubblico e quindi degno di tutela in Italia questa dignità della tutela però viene sancita dalle sovraintendenze e quindi è chiaro che se a un certo punto non viene posto un vincolo di salvaguardia né da un'area protetta quindi lato ambientale né dalla sovraintendenza il bene è alienabile lo stesso castello che è lì accanto essendo stata una magione prestigiosa per secoli ormai da molto tempo è un residence hotel quindi come dire questo è un po' il nostro paese io mi stupisco anche quando le amministrazioni non solo mettono all'asta dei beni di questo tipo ma anche quando rinunciano all'opzione di acquisto i comuni avrebbero per legge un'opzione di acquisto sui terreni che ritiene di interesse pubblico e di rilevanza e spesso le amministrazioni rinunciano perché gli interessi degli imprenditori locali sono più forti degli interessi di tutela del bene comune e quindi si apre ecco ripeto una riflessione che dovrebbe essere condotta a livello nazionale noi abbiamo un numero di chilometri di costa impressionante e abbiamo un territorio prevalentemente montuoso paesaggio e natura sono due elementi che andrebbero visti con una lente green ecco non solo per la bellezza che evocano non solo per la storia che trasmettono ma perché sono vero e proprio patrimonio identitario del nostro paese l'abbiamo detto con le pale eoliche lo diciamo con i pannelli fotovoltaici lo diciamo quando un muretto a secco che in altri luoghi diventerebbe un'attrazione turistica qualche volta da noi diventa oggetto di demolizioni o di rimaneggiamenti non propriamente rispettosi dell'identità locale ecco quindi è un tema molto molto interessante esatto anche perché secondo appunto il fronte del Sì che ha messo in vendita questo questo angolo di paradiso in realtà la zona è abbandonata ad oggi con un immobile che è in condizioni di forte degrado e che in realtà in questi 30 anni dal 1982 che appunto è passato in mani pubbliche che non è che sia stato fatto granché quindi l'opzione è appunto questo bando che scadrà il 29 di gennaio e un bando che parte pensate dalla modica cifra di 60.000 euro 66.000 euro 458 però appunto se voi volete interrompere questa insomma questa vendita questa concessione ricordiamo la petizione lanciata sul sito change.org l'obiettivo sarebbe quello di arrivare oltre le 15.000 firme e arriviamo adesso ci spostiamo proprio fuori dai nostri confini nazionali perché andiamo a Dubai Presidente un attimo andiamo e torniamo perché si è aperto e in corso lo sapete si è svolto l'Expo a Dubai e c'era naturalmente anche il padiglione italiano il padiglione dell'Italia che è già particolare il nome Presidente la bellezza che unisce le persone questo è sicuramente un punto da sottolineare però la cosa di cui noi vorremmo parlarvi è del progetto Insule che è un viaggio firmato da Treccani e Magister Art un viaggio a lungo termine che si propone di mappare la nuova geografia culturale delle isole del nostro paese Presidente un pochino possiamo dire come Sherryland? Sì sì possiamo dirlo poco a poco ha un aspetto un po' più divulgativo diciamo promozionale meno legato alla comunità residente diciamo sono splendide cartoline che l'Italia fa bene a promuovere nel mondo perché non possiamo continuare a vivere di rendita e quindi dobbiamo far vedere che siamo vivi creativi e capaci di produrre cultura anche nel nostro tempo e non soltanto degni o talvolta indegni eredi di un patrimonio del passato in particolare io sono un assoluto tifoso delle piccole isole perché sono un patrimonio spesso dimenticato noi abbiamo a livello proprio nazionale dalle Tremite alle Oli insomma all'Arcipelago Toscano insomma abbiamo sistemi di isole straordinarie poi essendo veneziano chiaramente non posso non tifare per le isole della Laguna di Venezia visto che peraltro il mio primo libro molti 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 anni fa era proprio Isole Minori della Laguna di Venezia quindi continua ad essere un estremo tifoso bene fa la Treccani in questo caso a integrare i contenuti enciclopedici che gli italiani consultano sempre di più online con un patrimonio audiovisivo che celebri non solo la bellezza delle piccole isole dei piccoli comuni non solo i luoghi dico ma anche le persone ecco in questo si ritrova un po' lo spirito di piccole patrie e di Sherry Land e delle attività che facciamo cioè c'è una bella attenzione alle persone alla comunità all'artigianato e quindi sono cartoline vive ecco sono cartoline vive di patrimoni piccoli forse come dire isolati proprio la parola essendo piccole isole ma che meritano tutta la nostra attenzione tutto il nostro rispetto e a Dubai penso non ci faranno sfigurare stiamo parlando peraltro di due isole comunque celebratissime Procida e Portano quindi speriamo che sia solo l'inizio di un lungo percorso e che la digitalizzazione e la promozione attraverso questi strumenti multimediali possa riportare al centro dell'attenzione ripeto non solo il turismo effimero in quanto tale da cartolina ma un turismo sensibile alle esigenze di chi vive nelle piccole isole e che comprenda quindi diventi consapevole anche della fragilità di quei tessuti sociali e quindi insomma immaginare un turismo che sia sempre più a portata di tutti Presidente come sempre grazie per le sue analisi così precise e puntuali grazie a Federico Massimo Ceschini della Società Italiana dei Professionisti della Movità Dolce e del Turismo Sostenibile per questi minuti che mi dedica ogni giovedì a me e ai nostri telespettatori grazie alla prossima settimana grazie buona serata buona sera a lei bene adesso voltiamo pagina e apriamo la seconda rubrica del giovedì quella dedicata alle recensioni ai consigli di lettura a cura della nostra book grammar di fiducia buonasera e bentornata Silvia Sbaraglia delle Lettrice Opposte come stai Silvia? ciao tutto bene grazie bene stai proprio bene di bianco e con i capelli tirati su però veniamo a noi vi ricordo sempre che Silvia con Benedetta De Marco è la curatrice si occupa di questa pagina sia Instagram ma la trovate anche su Facebook hanno anche il loro canale YouTube delle Lettrice Opposte dove appunto fanno quello che gli influencer fanno con la moda loro lo fanno con i libri infatti quotidianamente o quasi vi propongono le loro recensioni sul canale YouTube trovate anche ad esempio uno spazio che poi anche noi proponiamo qui che è quello dell'autore del mese però poi c'è sempre l'appuntamento a Restart264 per affrontare insieme analizzare i consigli di lettura della settimana tra l'altro vi ricordo che qualora voi perdesse questo appuntamento parte che potete trovare tutte le puntate di Restart sul nostro canale YouTube sul canale YouTube di Cusano Italia TV ma anche sul nostro sito nella sezione programmi nella sezione Restart264 nello specifico però la rubrica sui consigli di lettura noi la riproponiamo anche su Tag24 che è il quotidiano online targato Unicusano veniamo a noi Silvia di cosa parliamo oggi? proseguiamo con L'amore e ho scelto due romanzi partiamo da Esercizi di fiducia di Susan Choi vediamo ho scelto anche la medesima copertina ecco già il nome già il titolo perdonatemi di questo romanzo ci fa capire qual è il tema principale l'amore e le questioni di fiducia gli esercizi anzi di fiducia il titolo in realtà si ricollega anche all'ambiente in cui ci troviamo perché i nostri protagonisti sono degli studenti di una scuola di teatro è una scuola per talenti particolari e loro studiano teatro quindi questi esercizi di fiducia riguardano anche un po' questo lato il lato teatrale perché effettivamente loro si ritroveranno a cioè si scopriranno meglio proprio grazie ad un esercizio di fiducia che il professore a lezione gli proporrà nel buio sì non è quello di lasciarsi cadere e lasciare che qualcuno ti prenda non è quello classico esercizio di fiducia no ok qual è? in una stanza a buia? in una stanza a buia i ragazzi devono trovarsi perché effettivamente sono al buio più totale e devono camminare la sua terra gattonare o strisciare scelta loro e devono potersi riconoscere ed è proprio grazie a questo esercizio che i protagonisti David e Sara scopriranno di avere una chimica particolare perché chiaramente al buio sono gli altri sensi e non il senso della vista che emergono e attraverso soprattutto l'olfatto David riconoscerà Sara poi c'è il tatto anche e quindi scopriranno di avere questa chimica particolare il romanzo in realtà è suddiviso in tre parti ed ecco che troviamo anche gli esercizi di fiducia se vogliamo rivolti a noi lettori perché in queste tre parti allora la prima è la più lunga e ci racconta proprio la loro storia d'amore una storia d'amore poi particolare perché loro si vivono un'intera estate in maniera completa totale hanno 15 anni quindi è un amore molto puro e sembra l'amore quello della vita perché a 15 anni si vive tutto un po' come se fosse indispensabile se vogliamo e quindi viviamo questo amore però poi come rientreranno a scuola Sara fingerà di non conoscere David quindi ci troviamo anche davanti a questa situazione un po' particolare ed è qui che in realtà l'autrice mette un po' in gioco il teatro anche nelle relazioni umane proprio perché questa ragazza con gli occhi gli dimostra di non volerlo salutare di non voler avere a che fare nulla con lui e David chiaramente non accetta questa cosa la storia finirà però è bello vedere questo gioco teatrale proprio perché loro in realtà si conoscono fin troppo bene hanno vissuto un'intera estate davvero in simbiosi poi però a scuola cambia tutto nella seconda e terza parte viene un po' incrinata questa situazione perché ci viene mostrato un altro lato della medaglia altri due lati della medaglia quindi una medaglia un po' strana si a tre spazio non fa niente ci vengono mostrati altri due lati quindi l'esercizio di fiducia per noi lettori è proprio quello di affidarci a quanto ci viene detto perché nella prima parte leggiamo alcune cose di David e Sara nella seconda e terza parte ne leggiamo altre sono altre due versioni della stessa storia quindi diciamo che un po' la nostra fiducia sta in questo quindi insomma il lettore può scegliere a quale versione credere sì in sostanza sì perché chiaramente non si saprà qual è la realtà nella prima parte la leggiamo dagli occhi di Sara e David quindi è ovvio che la prima parte è quella più commovente se vogliamo quella più intensa di fatti è la più lunga del romanzo le altre due parti ci mostrano altro quindi diciamo che sta a noi poi fare un esercizio di fiducia nei confronti di chi e questo sta a noi scoprirlo bello molto interessante questo aspetto anche perché ci riporta insomma a una questione che è quotidiana nella vita di tutti noi quando ci si trova magari in una situazione difficile tra l'incudine e il martello bisogna secondo me sentire magari ascoltare entrambe le campane e poi magari tirare le proprie conclusioni che potrebbero anche non essere nell'una nell'altra ma una via di mezzo però è fondamentale a mio parere sapere insomma conoscere le due facce della medaglia per questo motivo hai deciso di sottoporlo consigliarlo oggi Silvia? sì a me è piaciuto molto il parallelismo tra la vita quotidiana e il teatro perché è un po' un inno al teatro in generale e io amo il teatro amo Andrea al teatro quindi mi è piaciuto molto questo parallelismo perché effettivamente si parla di queste maschere che indossiamo tutti i giorni e in questo c'è molto parallelismo con il teatro quindi mi è piaciuto molto per questo e poi la prima parte effettivamente è molto romantica è bello leggere di un amore così totalizzante come quello che si ha forse solo a 15 anni soprattutto un amore che dura un'estate perché alla fine parliamo di tre mesi però quell'estate effettivamente sembra l'estate della vita ci saremmo passati tutti credo effettivamente poi anche nella vicenda di tornare a scuola di tornare alla realtà e aver dimenticato tutto e però sono diciamo esperienze adolescenziali che ci aiutano a crescere passiamo al secondo consiglio di oggi un grande classico non dico neanche il titolo vediamo la copertina vediamo la nostra perché è quella di Silvia ecco qua diversa però insomma Via col vento sì perché Via col vento vabbè per chi non lo conoscesse Silvia ripercorriamo rapidamente la trama proprio rapidamente rapidamente vabbè rapidamente rapidamente in realtà la trama è talmente intricata che è difficile però comunque la protagonista è Scarlett O'Hara una ragazza che in realtà leggerei le prime due righe all'inizio per far capire chi è Scarlett O'Hara Scarlett O'Hara non era particolarmente bella ma gli uomini irrettiti dal suo fascino in genere non se ne accorgevano secondo me questo dice tutto beh in effetti ci racchiude tutta la trama in queste poche righe effettivamente allora perché hai scelto di consigliarlo oggi questo grande classico allora nella nostra opposizione che continua siamo sempre con il fil rouge dell'amore però qui siamo due epoche totalmente differenti personaggi totalmente differenti perché la protagonista di Via Colvento è una donna che non ha niente a che vedere con Sara per esempio di esercizi di fiducia perché è una donna molto convinta di sé molto frivola anche se vogliamo concentrata solo sull'aspetto fisico sulla bellezza la cosa che rimane è il fatto ad esempio di non farsi vedere mentre si mangia cioè si mangia sempre prima dei pasti perché così gli uomini non vedono che tu stai mangiando concentrata molto sulla circonferenza della vita della vita fisica in quel senso del corpo ed è una donna diciamo di anche in questo caso grandi passioni ma a parer mio delle passioni molto finte se vogliamo poi lei è innamorata mi è riputata però per ripicca si sposa con un'altra persona quindi anche questa cosa per me è un po' particolare mostra il carattere della protagonista l'ho scelto un po' per rispolverarlo perché Via Colvento è un grande classico però si ricollega sempre al film e diciamo che in pochi si approcciano al libro anche perché capisco molto vediamo l'amore di questo libro eccolo qua un vocabolario insomma eh sì sono più di mille pagine quindi è difficile però io lo consiglio anche perché queste mille pagine possono sembrare infinite in realtà sono scritte in maniera molto fluida e molto scorrevole come il romanzo e poi la protagonista ci porta anche per mano a leggere il romanzo perché anche se con un carattere così difficile è bello vedere tutti i suoi tormenti interiori per quanto possano sembrare dei tormenti frivoli però effettivamente è un amore vissuto in modo completamente diverso è molto personale perché lei si costruisce molte idee molti castelli ha un'immagine in un certo modo e lei è convinta che sia quella in realtà poi non è così anche perché effettivamente viene rifiutata proprio per questo suo carattere esageratamente frivolo perché sarà la sua zavorra sì perché è vero che ha un grande fascino però non c'è solo quello poi India col vento viene affrontata anche la guerra quindi diciamo che anche in questo caso la protagonista ci dà un volto differente ci fa notare che in quegli anni non tutti erano concentrati su questa guerra ma in realtà anzi lei è la prima che non la francamente se ne infischia mettiamola così si si se ne infischia proprio quindi vabbè chiaramente è per sottolineare il suo carattere e quello a cui lei si dedica la bellezza esteriore però effettivamente è sempre amore c'è sempre questa storia d'amore che secondo me fa sempre bene al cuore leggere di storie d'amore vero Silvia almeno anche se di personaggi particolari anche se di personaggi particolari magari si impara a non essere come loro se qualcuno di noi è un po' troppo frivolo leggendo via col vento magari si può migliorare questo è credo l'insegnamento più alto che ci può dare la lettura di romanzi non solo Silvia come sempre io ti ringrazio ricordiamo rapidamente i due consigli di oggi abbiamo parlato di esercizi di fiducia eccolo qua grazie Rachi e poi anche di via col vento grande classico ma non guardate solo il film prendete coraggio e approcciatevi anche al libro grazie come sempre a Silvia Sbaraglia dell'Elettrice Opposte alla prossima settimana grazie a te ciao ciao e grazie anche a voi per averci seguito anche oggi noi ci fermiamo qui ma torniamo domani Lineal Tg buonasera a tutti voi ciao ciao Grazie per la visione!